La lana viene avviata ad un grandioso pificio. Con cura meticolosa e sapiente, gli operai scelgono le varie qualità. L'homme de ferre, una macchina che lava 30 tonnellate di lana al giorno. Un complesso di macchine poderose, ma delicate, cardano e pettinano la lana trasformandola in morbido nastro. Il self-acting, la macchina meravigliosa che fa funzionare sincronicamente centinaia di fusi a velocità verginosa, trasformando i cambi di stoppini in filato. Un modernissimo processo chimico rende la lana inattaccabile dalle tarmi.